E dalla Regione Pippo Civati precisa la sua posizione in merito alle dichiarazioni apparse oggi sui giornali riguardanti la candidatura futura di Tabacci alla guida eventuale del Pirellone in caso di elezioni e comunque fa capire che bisogna dare più spazio ai giovani ed è un invito anche rivolto allo stesso PD mentre Formigoni e Di Pietro sono sempre più ai ferricorti. Più che correggere il tiro lo aggiusta solo un po' roba di un grado o poco più già perché Pippo Civati ha le idee chiare e sa dove vuole arrivare qualcuno citandolo tra l'altro lo piazza già sulla linea di partenza delle primarie lombarde per individuare il candidato alla poltrona di governatore lui però analizza con lucidità la situazione e pone al centro della riflessione i tempi di questa scelta e ragiona ad ampio spettro senza fossilizzarsi sul nome suo o altrui Secondo me Formigoni starà barbicato e quindi non stiamo parlando di cose impellenti e la seconda precisazione per me importante è che non sia un Tabacci contro Civati immagino che ci siano poi tanti altri candidati ma che ci sia oltre alla generazione di Tabacci anche quella di Civati che non è rappresentata solo da Civati ma insomma pensiamo al gruppo dirigente del Pire della Lombardia è tutto rappresentato da ragazzi che hanno, insomma si dice così ancora, che hanno 30 anni tra l'altro la situazione lombarda, la riflessione su Formigoni è più che mai attuale oggi Di Pietro ha chiesto a Monti di rimuoverlo dal ruolo di commissario per l'Expo e lui ha replicato che tanta morbosa attenzione nei suoi confronti da parte del leader dell'Italia dei Valori è solo un modo per nascondere una disfatta elettorale ma torniamo a Civati e al centro-sinistra insomma se si dovesse andare a votare nel 2015 e non in concomitanza con le elezioni nazionali sarebbe tutta un'altra storia sottolinea però, lo abbiamo sentito, che un'alternativa politica tutta interna al centro-sinistra e allo stesso PD esiste ed è un progetto concreto facce nuove, idee fresche il rottamatore è sempre lì, pronto a dire la sua senza paura senza che le gerarchie lo rendano afono e sulla questione primarie, tornata ad attualità dopo l'uscita di Bersani che ha di fatto ipotizzato una sospensione dello strumento in vista delle politiche del prossimo anno Civati non usa mezzi termini anche questa formula, il candidato lo scegliamo noi e metteremo degli esterni io vorrei fare in un altro modo fare le primarie soprattutto per scegliere i parlamentari perché è la cosa che riguarda poi il gruppo politico e poi sulla scelta del leader ci dicano qual è la coalizione perché se non sappiamo qual è la coalizione è un po' difficile organizzare le ste primarie